Si dice che Meghan Markle non si recherà nel Regno Unito in qualsiasi momento presto dopo le voci che le coppie reali potrebbero tornare a battezzare Lilibet Diana. Meghan Markle, 40 anni, e il principe Harry, 36, hanno in programma di presentare Lilibet Diana alla regina entro la fine dell'anno, secondo quanto riportato dal Sun. Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa del Sussex hanno chiesto al monarca di incontrare i piani per ospitare un battesimo per il loro bambino di quattro mesi. Ma il commentatore reale Cristina Garibaldi non pensa che Meghan si dirigerà. In qualunque momento presto, parlando al podcast Royale Us di Us Weekly, la signora Garibaldi ha dichiarato, non credo che Meghan andrà davvero lì presto. Penso che manterranno tutto abbastanza privato. Chissà, potrebbero anche aver fatto il battesimo perché non abbiamo visto nessuna foto o Meghan. La conduttrice Molly Malshine ha aggiunto. Anche Jonathan Sacerdoti ha all'uso la scorsa settimana alla loro affermazione che il loro matrimonio si sarebbe tenuto tre giorni prima del matrimonio con l'arcivescovo di Canterbury. L'arcivescovo ha detto che non è successo ed è il capo della Chiesa d'Inghilterra. Questo lo rende un po' imbarazzante, credo, venire a farla battezzare nella Chiesa d'Inghilterra. I suoi commenti arrivano dopo che Meghan ha detto che nessuno sapeva che la coppia condivideva i voti personali per solo noi due prima del loro tanto atteso giorno del matrimonio a Windsor il 19 maggio 2018. Punto punto. Si pensava che non potesse essere una cerimonia legale in quanto mancava di testimoni e di un luogo registrato. Ed era invece probabile che fosse uno scambio informale di voti. Da allora l'arcivescovo di Canterbury ha affrontato per la prima volta l'osservazione fatta dalla duchessa del Sussex che si era sposata tre giorni prima del suo grande matrimonio reale. In un'intervista alla Repubblica, Welby è stato interrogato su cosa sia successo e ha detto che il matrimonio legale si sarebbe svolto sabato. Aggiungendo. Ma non dirò cosa è successo in nessun altro incontro.